Sto dentro un'arte politicizzata, politicizzare l'arte vuol dire stare dentro un processo che lega strettamente le trasformazioni delle esperienze delle persone singole e organizzate ai loro bisogni, ai loro desideri espressivi. Questa è l'arte che mi interessa. Da questo punto di vista, per esempio, io cerco l'arte nei movimenti, ma non in spezzoni di movimenti particolari. Io mi dedico all'arte, io faccio l'arte. Va benissimo poi che ci sia anche della gente che specificamente si occupa di questa dimensione. Ma se il processo non nasce dal magma del movimento, se non esprime in forme diverse, in forme nuove, in forme inedite, in forme bizzarre, in forme sorprendenti. Questa è l'arte che deve fare questo, ma deve esprimere quello, perché se no è il solipsismo. È come quando Deleuze dice che la cosa importante non sono gli alberi che sono robe simili, è l'erba, è il tessuto connettivo che connette tutte queste cose, che connette l'albero, che connette il concetto. Il criterio generale che a me andrebbe bene sarebbe quello di un posto, di un collettivo, di un luogo in cui l'attenzione sia contemporaneamente o in tempi molto vicini o in modi molto vicini al modo in cui sorgono le idee, al modo in cui sorgono i progetti, al modo in cui si pensa alla innovazione espressiva e contemporaneamente la si pratica, la si mette in opera.